A regà, a regà, a regà. Allora, Perotti è stato venduto. Prima di cominciare, come sempre, vi auguro, ma che vi auguro, vi invito a passare su OneFootball, quella che a mio modo di vedere è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Andrà in descrizione, cliccate e scaricate OneFootball, se volete rimanere sempre al gioco, anche perché mancano tre giorni alla fine del mercato e adesso più che mai bisogna sapere le news, quindi cliccate, via! Alleluia, 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 alleluia. Regà, ce l'avemo da fanno, no, ce l'avemo da fanno, leva sto ciucco di merda, ce l'avemo fatta, ce l'avemo fatta, cazzo, ce l'avemo fatta, ci stiamo vendendo gli esuberi, se ne vanno, se ne vanno, partono, partono. Mi dispiace innanzitutto trattare in questo modo Perotti Al quale ho sempre creduto Sul quale ho sempre puntato Al quale ho sempre voluto molto bene Ma arriva un momento nella vita di un uomo Che cazzo mi ha pizzicato qua Arriva il momento nella vita di un uomo in cui ti devi levare dai coglioni Non è cattiveria, io ti voglio molto bene Però se continui a romperti da tre anni a questa parte tutti i giorni della tua vita Vuol dire che sei arrivato Vuol dire che sei arrivato E sinceramente lo scorso anno per quanto io voglia Bene A Diechito Perotti Mi aveva dato tanto fastidio Vi dico la verità Mi aveva dato tanto fastidio Quando la gente aveva detto Vediamo dove andiamo Perché comunque la Roma Cioè non erano contenti Nonostante questo fosse sempre rotto Cioè io ti aspetto Io ti coccolo Tu mi hai dato tanto Però fino a un certo punto Comunque voglio ringraziarlo Allora di chi sto a parlare Ho detto già dieci volte Ormai Diego Perotti va al Fenerbace O al Fenerbace Non lo so Forse Fenerbace Comunque va in Turchia per due milioni e mezzo di euro E tra l'altro Noi prendiamo due milioni e mezzo Loro praticamente Non so se lo sapete In Turchia c'hanno una moneta Da due milioni e mezzo Basta Fine Proprio solo quella c'hanno Infatti posso dare solo quella Tant'è che ce l'hanno Due milioni e mezzo a noi Due milioni e mezzo a Prima Napperotti Due milioni e mezzo a secondi Due milioni e mezzo a te Ci danno due milioni e mezzo Per tre anni a lui E due milioni e mezzo subito a noi Volevano spennere A parte hanno fatto un'azione Da dieci milioni di euro Che per me Per le qualità del giocatore Niente da dire Niente da Niente da dire Però per quanto riguarda Per quanto riguarda La tenuta fisica Insomma converrete con me Che se sarei a GMP Per 40 minuti a miracolo Poi io son Assolutamente d'accordo No io son È un gamin Io son Sono assolutamente d'accordo Che quando si parla di Perotti Si parla di un giocatore Uno dei pochi Che alla Roma Ad esempio sapeva saltare l'uomo Perché lui Li saltava l'uomo Come pochi al mondo Ti mandava al bar Semplicemente Con un Con un gioco di spalle Ecco questo Lo sa fare Perotti E poi basta Ok penso che questo Su questo sarete d'accordo con me Però regà Era una cosa che serviva Era importante Era fondamentale Cedere Diego Perotti E la cessione di Perotti È d'oro Sono contento Perché diciamo Libera spazio Perché abbassa il montengaggio In qualche modo Perché poi magari Magari non lo abbasseremo Magari prenderemo un altro gioco E prenderemo le cifre Però vuol dire Levarsi un gioco Da due e mezzo Prendere un altro gioco Da due e mezzo Che ti può dare di più In questo momento Per quanto mi riguarda Diego Perotti Non poteva più darci nulla Ma niente Ma niente E quindi sono molto 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 contento Dell'essere Di come siamo riusciti A piazzarlo Poi Ci ha dato tanto A letto ha fatto Ma lo sapevo Insomma più o meno Ha fatto una trentina di gol Ha fatto una trentina di assist Ha dato tanto alla Roma Ma al di là degli assist e di gol Ha dato tanto anche A livello di prestazioni Secondo me Perotti È stato uno dei migliori Della Roma di Spalletti Ricordo Tra l'altro era al liceo Quando arrivò Che insomma Era la Roma di Spalletti Ed era Ed era la Roma di Io ero mi pare In quarto liceo E arrivarono Perotti Del Sharawi a gennaio E cambiarono la Roma Da così a così Lui Spalletti arrivò Che la prima La pareggiammo col Verona Mi sembra 0-0 Poi perdemmo con la Juventus E poi però Da lì in poi Le vincemmo praticamente tutte Ne vincemmo Tipo nel girone di ritorno Le prime 10-12 Le vincemmo E poi le pareggiammo tutte Cioè non perdemmo più Finimmo il campionato Senza mai perdere più una partita Tant'è che facevamo Praticamente un girone di ritorno Pazzesco E in quel momento storico Era una squadra di sera Che giocava meglio Quindi io su Perotti Vi ricorderete Quando dati guardo i video Se non vi ricordate Io su Perotti C'ho un attaccamento particolare Un po' come per il Sharawi Perotti forse Un po' diversamente Perché 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 Nessuno Diciamo Dava un euro A Diego Perotti Da quando è arrivato al Genoa Ma nemmeno io Cioè ma nemmeno io Io mi lamentai Non sto scherzando Io mi lamentai Quando prendemmo Perotti Perché preferivo Eder che nello stesso mese L'ho presa l'Inter Perché pensavo Che nel gioco dell'anno Potesse essere più funzionale Invece poi Perotti Invece benissimo a Roma Ma benissimo Veramente raga Fece una cosa spaziale E tuttora mi dispiace Dover parlare in questo modo Di Perotti Cioè io lo reputo Comunque uno dei big Della Roma Da quando sono su Youtube Quindi dovessi fare una top 23 Probabilmente Da quando sono io su Youtube Quindi la mia top 23 Youtubistica Probabilmente Diago Perotti In qualche modo Ci finirebbe Parlo ovviamente della Roma Però Però basta Però basta Dovevi Capirlo forse prima Non lo so Non lo so Non lo so Sono contento più che altro Che vada a svernare Com'è che si dice Sono contento che vado a fare Le ultime Le ultime zampate Qui e lì In Turchia E poi E poi chi si è visto Si è visto E poi è stato un piacere Ma perché Era Era obbligatorio Anche perché Questi sono gli ultimi giorni di mercato E la Roma Deve necessariamente Comprare e vendere Ieri è arrivato Borja Majoral Abbiamo preso Cumbullà Deve arrivare Deve arrivare Ancora qualche pedino Deve arrivare Un difensore centrale Per forza Per forza Deve arrivare Un terzino destro O un esterno destro O che sappia fare Entrambe le fasce Avevamo provato A prendere da lotta Ma alla fine L'ha preso il Milan Ne ho parlato oggi Sinceramente rosico Ah tra l'altro A proposito di Roma E di come costruire la Roma Rapidamente Poi torniamo al discorso Oggi è uscita La prima puntata Della carriera allenatore Sul mio canale Sick Wolf Calcio 2.0 Seguitemi Perché vorrei portare Una barra Due puntate al giorno Sick Wolf Calcio 2.0 C'è la prima puntata Con la Roma FC Su FIFA 21 Quindi mi raccomando Ci tengo tanto Se insomma Supporterete la serie Io cercherò di portarvi Una puntata Praticamente al giorno O anche un paio al giorno Quindi mi raccomando Vi voglio duri e cazzuti Duri e cazzuti Non si può sentire Sembra anche un po' porco E anche un po' porno Però insomma Va bene Va bene così Va bene così Detto questo Vi dicevo Adesso la Roma Deve comprare La Roma adesso Deve ancora comprare Oggi che cazzo De giorno è Che giorno è oggi Vediamo un po' No io Ho preso oggi Che cazzo di giorno è Non so cosa rispondo Ma porca troia Che gio Che giorno è oggi È sabato 3 ottobre 3 ottobre Allora Dopodomani chiude il mercato E la Roma deve ancora Comprare un difensore centrale Deve ancora comprare Forse un centrocampista Non ti torna a distanza Ma il centrocampista Non lo faremo Perché non lo faremo Sono sempre più sicuro Cioè quando ho sentito Le voci di Torreira Mi veniva da godere A destra e sinistra Ma il centrocampista Non lo faremo Sono sorpreso Che ci sia ancora Klaivert Se posso essere sincero Perché la Roma Con Klaivert In questo momento Non ci fa nemmeno il brodo Già che c'avevamo Pedro e Carlos Perez Che non sono esattamente Due tre quartisti Ma sono adattabili A parte che Pedro È spaventoso Per quanto mi riguarda Un giocatore come Pedro Può fare veramente di tutto Anche la pasta Per quanto mi riguarda Pedro e Mkhitaryan Sono due giocatori Che hanno alzato notevolmente Il livello della Roma Perotti doveva partire Perotti per forza doveva partire Perché era un esubero Al cento per cento Ma come lo sono Fazio e Juan Jesus E mi sorprende Che ancora non si riesca A piazzare Fazio E non si riesca A piazzare Juan Jesus Cioè non capisco perché Quando bisogna piazzare Gli esuberi Non si fa sempre A uno barra due Barra tre giorni Dalla fine del mercato Piazzate questi esuberi Vendete questi giocatori Detto questo Sono contento Di Diego Perotti Che cazzo Mi ha pizzicato Vabbè Sono contento Di Diego Perotti E io gli auguro Il meglio Perché il meglio Sinceramente È quello che merita Perché mi ha dato tanto Mi ha dato tanto Non mi è mai sembrato Un giocatore fuori posto Se ve l'ho detto Tranne quelle dichiarazioni Un po' scomode Maturate un paio Un annetto circa fa Negli ultimi due o tre anni Due barra tre forse O due o tre comunque Perotti era diventato Inutile Cioè Dopo l'anno dei rigori Ricordate l'anno in cui Perotti Ho 40.000 rigori Ecco l'anno dopo Comincia a rompersi A rompersi A rompersi A rompersi A rompersi E divenne praticamente inutile Quindi in questo momento Io di Perotti C'ho anche un brutto ricordo Bel ricordo di prima Però negli ultimi anni Ma lasciano delle scorie Tipo che palle Perché non facevo altro Che vedere Perotti Che giocava con i suoi cani Su Instagram E che non metteva mai piedi in campo Praticamente è stato Un sanguisuga Di soldi Nell'ultimo periodo Fine a se stessa Quindi sinceramente Io non Non ho nulla da dire Riguardante ciò Detto questo Fatemi sapere la vostra Con un commento qua sotto Iscrivetevi al canale Qualora non l'aveste già fatto Io vi ringrazio Per aver visto questo video Tantissimi piaciuti qui sotto Buonasera alla lente come sempre Ci vediamo ad un prossimo video